musica 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 benvenuti ragazzi e benvenuti a un nuovo video di internet che è una serpice oggi ragazzi avete visto i dati e avete visto i dati oggi ragazzi andremo a far giocare spagna e italia perchè ragazzi domani ragazzi si giocherà la semianale di necolink spagna e italia però si su un gioco ragazzi che è questo qua ragazzi ecco ragazzi il gioco quindi ragazzi questo qua non so cosa puoi fare vedere questo qua solo ps2 ragazzi quindi ragazzi per una banda alle chiacchierelle e vado e andiamo sul gioco ragazzi ecco qua ragazzi sto sul gioco ragazzi quando il gioco a un ragazzi do l'italia giocherà in trasferta ecco ragazzi l'ho già preparato così ecco ecco qua ecco qua ecco qua qua metto ragazzi ragazzi ho creato un giocatore cioè me stesso qua ragazzi metto a totti e poi ragazzi a cassano che ragazzi che è il bar che si è ragazzi il bar che si è oh come va come si vai ora ragazzi sono anche i 2 migliori ragazzi e ragazzi iniziamo ora ragazzi lo stadio è quello che ho fatto io ragazzi a tempo ragazzi ragazzi sono di 4 mesi ragazzi parlo di 4 4 ore e ragazzi iniziamo allora vai per domingio o la no vabbè vabbè fanno vabbè 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 oh ragazzi questo ragazzi è il super tiro che è che questo tiro ragazzi toglie un gol all'estate e da due gol a quale che l'ho finito però devi drippare due le azioni buona 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 ecco l'incendio ragazzo dei secondi no gol della spagna pedoling bufanno che sta a cassano dirvi che sono oh ragazzi oh ragazzi no no 4 a 2 ragazzi 5 a 2 ragazzi 5 a 2 ragazzi è finita qua la galappa ragazzi vinci per aver segnato 4 gol è l'italia ragazzi ragazzi ci vediamo ragazzi con un altro video ragazzi 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 domani dovere proprio di spagna italia nesling basta in finale bella ciao ragazzi eterna di forza italia